E da domani anche qui nella farmacia comunale che si trova in via Strinella sarà possibile effettuare i tamponi rapidi per ottenere per il rilascio del Green Pass un servizio aggiuntivo che la FM mette a disposizione dei cittadini perché la richiesta è cresciuta in modo esponenziale ad un mese dall'obbligo di Green Pass anche per accedere nei luoghi di lavoro. La richiesta di tamponi e Green Pass è cresciuta in modo esponenziale dopo le regole del governo sulla carta verde. La FM, la municipalizzata del comune che gestisce le farmacie comunali, ha deciso così di mettere a disposizione dei cittadini un nuovo punto per eseguire i tamponi rapidi nella farmacia comunale di via Strinella. Già è pronto il gazebo che sarà operativo da domani all'esterno della farmacia. Già dallo scorso lunedì la farmacia sta osservando un orario prolungato dalle 8.30 alle 19.30, da lunedì al sabato e ora ci sarà il potenziamento dei servizi esistenti che andranno ad incrementare quello che già si fa nella farmacia di Coppito e in quella di Pettino. La stessa amministratrice della FM, Alessandra Sant'Angelo, ha deciso, vista la richiesta di tamponi rapidi per ottenere il Green Pass, di implementare il servizio per assicurare al tempo stesso anche il normale e regolare svolgimento del servizio farmaceutico. Le prenotazioni per i tamponi potranno essere fatte online. I dati però non sono poi così male, secondo Confindustria almeno, perché in provincia solo lo 0,5% dei lavoratori delle industrie è risultato sprovvisto di Green Pass ed è stato sospeso senza la retribuzione. Ad un mese dall'obbligo, insomma, non risultano esserci segnalazioni al prefetto oppure multe erogate nei confronti di dipendenti e imprese. Intanto, però, l'ospedale si prepara eventualmente anche a riaprire il modulo Covid di terapia intensiva, come ha sottolineato il primario Franco Marinangeli, e questo comporterà, se succederà, un'inevitabile riorganizzazione in ospedale, di cui l'appello a vaccinarsi, anche se per il primario questa quarta ondata sarà meno temibile proprio per l'efficacia dei vaccini.